Buongiorno Dalido, non ho molto da dire oggi in introduzione, quindi vi risparmierai e andrei direttamente verso le news perché ho qualche aggiornamento sulla questione di Apple di cui vi ho parlato la settimana scorsa e anche su Microsoft, su quel breach di gente hacker russi, naturalmente, che hanno penetrato la sicurezza di Microsoft e hanno un po' pasticciato con le mail e i corporate account, quindi vi do qualche piccolo aggiornamento su quello e poi parliamo invece di Italia, ci sono cose frizzantine in Italia che vale la pena andare ad analizzare in conclusione di questa piccolissima introduzione vorrei solo dire un grazie grazie a chi mi ha fatto un piccolo favore che io ho notato e quindi, insomma, a chi sa, grazie andiamo alle news Allora, oggi è il 29 gennaio, la settimana scorsa, proprio nell'ultimo episodio, se siete anche, tra l'altro, se mi state guardando su YouTube metterò il link all'ultimo episodio nel video qua adesso, quindi potete andare a rivedere se non l'avete visto perché così vi fate un po' un'idea, se non lo sapete, di quali sono i dettagli della notizia che andiamo a commentare adesso cioè di tutti i cambiamenti che ha fatto Apple alle proprie politiche grazie o a causa proprio del DMA, del Digital Markets Act europeo A queste sono arrivati alcuni commenti, già alcuni li avevamo intercettati la giornata stessa della news quelli di Tim Sweeney, il CEO di Epic, e quelli di DHH, David Einemeyer Hanson entrambi, insomma, diciamo abbastanza opinionati ma ce ne sono altre due carine che mi sono ritrovati in questo weekend e vi riporto la prima è quella di Spotify, quindi il commento di Spotify alle decisioni di Apple commento ufficiale apparso sulla newsroom di Spotify, quindi sul loro blog aziendale, di fatto, le news aziendali e uno può pensare su un blog aziendale, uno ci va calmo, uno ci va cauto col commentare mosse di competitor, di azienda nel proprio segmento no, non funziona così, almeno in Spotify perché vedete che le parole che usa l'azienda svedese non sono per niente accomodanti e quindi c'è questo post del 26 gennaio dove appunto Spotify commenta le decisioni di Apple e si intitola che le proposte, i cambiamenti proposti da Apple vanno contro gli obiettivi del DMA, rigettano gli obiettivi del DMA e inizia dicendo che per quasi cinque anni Spotify ha chiesto alla Commissione Europea di agire contro Apple proprio in un mondo in cui è importante andare a valorizzare la competizione e l'innovazione e quello che fa Apple era inaccettabile e quindi si dicono eccitati al momento dell'approvazione del DMA quando arrivò il DMA, quando arrivò quella serie di norme che volevano un po' frenare i cosiddetti gatekeeper tra cui Apple ma al momento Apple ha applicato delle regole e loro evidentemente non pensano che tutta questa infrastruttura legislativa debba applicarsi ad aziende come la loro e questo, commenta Spotify, porta la loro arroganza tutto a un nuovo livello e sotto la falsa pretesa di compliance quindi di essere conformi al DMA quindi sotto una falsa pretesa di conformità e concessioni creano tutto un nuovo piano che è una totale farsa parole di Spotify essenzialmente la vecchia tassa era resa inaccettabile dal DMA e quindi hanno creato una nuova tassa mascherandola come compliance con la legge e dice Spotify molti degli sviluppatori più popolari non saranno assolutamente in grado di accettare di scegliere questa nuova possibilità e ci sono i tre punti fondamentali quindi la fee, la tassa di 50 centesimi di euro per ogni download per ogni anno sopra il milione che Apple mette giusto solamente per permettere agli sviluppatori di esistere su iOS il commento di Spotify quindi dice questa è estorsione pur è semplice estorsione ripeto blog Spotify ufficiale estorsione tra l'altro è la stessa parola che ha usato DHH proprio non so se si sono sentiti per mettersi d'accordo sul linguaggio da utilizzare estorsione e da quanto Spotify legge della proposta di Apple uno sviluppatore dovrebbe pagare questa tassa anche se un utente semplicemente scarica l'app però poi si dimentica di installarla, di usarla la lascia lì quindi per ogni download anche inutilizzato uno sviluppatore dovrebbe pagare a Apple 50 centesimi e questo naturalmente li colpirà durissimo poi il secondo punto è sulla tassa del 17% per quelli che vogliono stare sull'app store ma con metodi di pagamento alternativi fuori dal circuito di Apple Pay e questo colpirà ancora di più gli sviluppatori e renderà questa alternativa diciamo scarsamente appetibile ecco e poi la questione degli store alternativi Apple offrirà la possibilità di creare store alternativi ma è davvero così? si chiede Spotify secondo questi nuovi termini se noi stiamo sull'app store e diamo il nostro pagamento in app alternativo quindi dovremmo pagare il 17% delle commissioni e 50 centesimi di Core Technology Fee vi ricordate per installazione ogni anno e questo praticamente ci fa sì che questo nuovo regime sia peggiore del precedente e se noi rimuoviamo l'app dall'app store e ci mettiamo su una store alternativa comunque questa roba non funzionerebbe per appunto i calcoli sulla base dei 100 milioni di utenti che hanno in Europa calcolando con le nuove tasse questo risulta assolutamente infattibile quindi dice l'azienda l'unica conclusione è che Apple forza gli sviluppatori a rimanere nello status quo questa è la pure e semplice conclusione e quindi poi fa una richiesta una domanda alla commissione europea la commissione europea accetterà o agirà di nuovo contro questa presa di potere con la forza questo abuso di potere di Apple e quindi la domanda è il DMA sarà una cosa bella idealmente in teoria ma nella pratica non avrà alcun effetto sostanziale sugli sviluppatori e questa è la domanda finale di Spotify ora vi vado a leggere invece in breve la critica di Mozilla la critica di Mozilla però non è sugli store alternativi o sui pagamenti ma è sui browser sono su un articolo di The Verge e si parla proprio della nuova regola di Apple che nell'Unione Europea permetterà di avere engine alternativi browser engine alternativi ricordate che i browser sono una collezione di software uno è l'engine cioè quello che sta sotto la UI del browser quello che esegue le operazioni a più basso livello quello è il browser engine no? detta molto in sintesi ecco se Apple permetterà dice nuovi engine perché glielo glielo impone il DMA ebbene un portavoggio di Mozilla che si chiama Damiano De Monte ha detto a The Verge che in Mozilla sono molto contrariati da come si stanno mettendo le cose e dice stiamo ancora revisionando i dettagli tecnici ma siamo molto estremamente contrariati dalla proposta di Apple di limitare il nuovo browser engine kit cioè quello che permetterà di avere browser diversi soltanto alle app in Unione Europea e questa roba forzerà gli sviluppatori di browser indipendenti come Firefox a creare e mantenere due implementazioni diverse del browser stesso che è un fardello che nemmeno Apple si potrebbe permettere e quindi dice la proposta di Apple non dà in realtà agli sviluppatori una scelta perché rende più difficile più doloroso possibile per gli sviluppatori creare delle vere alternative a Safari e quindi sottintende queste alternative difficilmente esisteranno e rimarrà lo status quo poi ora vi do un aggiornamento sul caso hack in Microsoft cioè quella notizia che vi dava la settimana scorsa in cui gruppi di cyber criminali chiamiamoli così russi gli stessi che avevano confezionato l'attacco SolarWinds quello che poi ha dato il via a tutte le discussioni che si stanno in realtà facendo oggi sulla cyber security nasce un po' tutto da lì o quantomeno ecco il volume si è alzato moltissimo dopo SolarWinds che è un caso insomma emblematico che se non conoscete vi consiglio andatevi a cercare l'attacco a SolarWinds e capite un po' cosa succede e cosa insomma qual è la discussione moderna che parte un po' da lì Microsoft quindi viene era stata abricciata da questo gruppo russo si chiama Nobelium ha vari nomi in realtà Midnight Blizzard Nobelium comunque è stato attaccato ha scoperto di essere attaccato qualche giorno fa qualche settimana fa da un attacco che in realtà era avvenuto a novembre abbiamo adesso una sorta di post mortem cioè qualche dettaglio in più che ci fornisce Microsoft su che cosa è successo come è andato quell'attacco viene confermato che Midnight Blizzard ha utilizzato un attacco di tipo password spray che sarebbe una specie di brute force dove però si cambia anche l'account che si prova a forzare provando password per girare un po' attorno ai sistemi che fanno la detection di tentativi di login falliti ecco mettiamola così quindi è un tipo comunque è un tipo di brute force quindi hanno provato varie password finché ne hanno beccata una e sono poi riusciti ad entrare in un tenant account di test su un sistema di non produzione quindi su un sistema di test di stage e questo account ovviamente non aveva la multifactor abilitata nonostante le linee guide di Microsoft siano di abilitare la multifactor su qualunque account cloud loro stessi al loro interno avevano un account senza multifactor questi sono entrati ma la cosa per me è abbastanza clamorosa di tutta questa faccenda è che una volta che gli attaccanti hanno preso possesso di questo test account sono riusciti a creare un'applicazione oout qui dovreste un po' capire come funziona oout ma fondamentalmente è un sistema di autenticazione che vi richiede di creare un'applicazione tramite la quale insomma ottenete degli accessi un'applicazione che ha vari permessi e tramite questi permessi chiunque effettua un login attraverso quell'applicazione ha dei permessi su un sistema quindi loro hanno creato un'applicazione di test oout gli hanno assegnato il permesso full access as app e assegnandogli questo permesso questa comunicazione ufficiale di microsoft gli hanno dato l'accesso a tutto office 365 exchange online di microsoft quindi hanno avuto attraverso questo l'accesso a sistemi di posta a file agli account insomma di executive membri di alto livello senior member di microsoft corporate attraverso un account di test con una con una app oout che già il fatto che siano entrati con una brute force è strano ma ancora più strano il fatto che con un test account si possa creare un accesso root agli account agli account executive in office 365 abbastanza incredibile e comunque poi da lì si prosegue dicendo vabbè da lì hanno avuto accesso a limitati account microsoft però in realtà pare che sia stato per un paio di mesi poi microsoft dice anche che questi attaccanti hanno colpito altre aziende e noi sappiamo abbiamo visto anche l'attacco a Hewlett Packard Enterprise HPE gli stessi attori più o meno le stesse modalità anche se la disclosure in questo caso non c'è ancora stata completa quindi non sappiamo però più o meno dovrebbero essere le stesse modalità chiude qua the register nell'articolo dicendo qua almeno ci portiamo a casa una lezione da questo attacco il multifactor va abilitato sempre in ogni circostanza per qualunque account quindi cosa posso fare io se non suggerirlo anche a voi che ascoltate qualunque account abbiate per carità abilitate multifactor abilitate multifactor ne va sia della vostra sicurezza che apparentemente della sicurezza dell'intero sistema in cui il vostro account si trova poi adesso ci spostiamo nel nostro bel paese la nostra bella Italia vado a usare queste locuzioni perché sono le stesse che usano i nostri politici a quanto pare infatti vado a raccontarvi del decreto cyber security com'è che l'hanno chiamato? l'hanno chiamato disegno di legge sulla sicurezza informatica vabbè ma avrà un nome del tipo DDL cyber hacking ah DDL cyber security ok ecco quindi decreto di legge non è ancora una legge non è ancora stato convertito in legge però insomma è in discussione però i punti già si possono commentare e qui infatti sono su il corcom il corriere comunicazioni per essere più istituzionale no? e vado a vedere un po' di che si parla e c'è il sottosegretario Alfredo Mantovano che è l'autorità delegata per la sicurezza dice questo DDL prevede norme di carattere penale che non sono solo l'innalzamento sanzionatorio ma anche la configurazione di figure autonomi di reato come l'estorsione cibernetica che è diversa dall'estorsione normale perché è cibernetica dice la legislazione vigente risale a quasi vent'anni fa e vent'anni non solo in assoluto ma soprattutto per il web e per il cyber per il web e per il cyber che sono due cose diverse il web e il cyber c'è una dobbiamo imparare a conoscere questo nuovo ambiente si chiama il cyber ed è probabilmente specificato nella legge quindi esisterà è una sorta di metaverso il cyber con la c maiuscola quindi vent'anni per il web e per il cyber sono più di un'era geologica dice Mantovano questa legislazione vede sanzioni penali per le quali oggi al criminale questa legislazione di vent'anni fa quindi vede sanzioni penali per le quali oggi al criminale conviene fare questo tipo di attacchi nel cyber quindi piuttosto che rubare frutta al supermercato perché le sanzioni sono davvero esigue mi permetto di dubitare di questa dichiarazione di Mantovano mi permetto di dubitare che rubare frutta al supermercato sia punito in modo più severo che non fare un attacco a una pubblica amministrazione via via web non lo so non sono un avvocato ma mi permetto di dubitare di questa dichiarazione magari mi sbaglio io allora Mantovano ha ricordato come sia ancora poco diffusa la consapevolezza della gravità della posta in gioco nel senso che alcune amministrazioni la pensano come la pensavano i nostri nonni o genitori 40 anni fa quando facevano resistenza a mettere a casa il sistema d'allarme vabbè lo stato dell'arte ha visto anzitutto un incremento significativo negli ultimi anni in particolare dopo l'avvio del conflitto in Ucraina e ancora di più dopo l'avvio del conflitto in Medio Oriente ma in realtà SolarWinds era avvenuto prima ma ok di attacchi cyber nelle varie modalità in cui si articolano attacchi cyber sia quelli che mirano a provocare danni anche di immagine sia i cosiddetti ransomware cioè la versione cibernetica delle istruzioni cibernetica mi piacciono questi termini il DDL allarga il perimetro dei soggetti tenuti a dotarsi di sistemi di cybersicurezza ai comuni sopra i 100.000 abitanti alle ASL ai capoluoghi di regione e alle aziende di trasporto pubblico locale queste organizzazioni devono notificare entro 24 ore al massimo da quando ne sono venuti a conoscenza gli incidenti informatici subiti dai loro sistemi sono un po' ignorante in questa materia però mi sembrava che già ci fosse l'obbligo di notifica entro 24 ore c'era il GDPR di mezzo forse però solo per i dati che facevano che entravano nel perimetro di GDPR non lo so però mi sembrava che ci fosse già questo obbligo nel caso di ritardi l'agenzia per la cybersicurezza nazionale potrà inviare ispezioni e se l'inosservanza si ripete applicare una multa da 25 a 125 mila euro sanzioni anche per le PA che non si adeguano all'indicazione dell'agenzia sulle vulnerabilità alle quali sono esposte quindi sanzioni il provvedimento prevede poi il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni per cui si stabilisce che quelle interessate da queste norme devono dotarsi di un proprio ufficio di cybersicurezza previste anche misure per trattenere i talenti cyber nel settore pubblico ed evitare la fuga verso le aziende private queste non meglio identificate misure per trattenere i talenti cyber i talenti cyber sarebbero boh degli androidi tipo i talenti cyber ce n'è una molto semplice di misura per trattenere i talenti cyber pagare investimenti quindi l'unica cosa che non trovo in questo DDL infarcito di parole tipo cyber e cibernetico non trovo investimenti se vedessimo degli investimenti che sono l'unica cosa che potrebbe davvero migliorare la situazione sono gli investimenti sono investimenti per migliorare l'infrastruttura hardware l'infrastruttura software la formazione del personale la formazione anche in generale della cittadinanza per avere più consapevolezza dei pericoli che stiamo correndo ci vogliono investimenti questo possiamo anche inaspirare possiamo portare le pene per i cybercriminali a essere peggiori rispetto a rubare frutto al supermercato questo potrebbe essere interessante ma se non facciamo investimenti per migliorare la situazione non cambierà niente non cambierà niente si possiamo anche inaspirare le pene tra l'altro sulle pene leggo anche questo sono sconti di pena fino a due terzi per gli hacker vadano quanto odio quando viene usato hacker per definire un cybercriminale vabbè gli hacker che aiuteranno le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie le pene previste per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico inaspite del doppio fino a massimo di 12 anni sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori quindi tu fai un hack breach entri penetri nel perimetro di una PA però poi ti scoprono quindi a quel punto tu collabori e gli dici adesso vi do modo di non perdere tutti i dati che vi ho sottratto e ottieni uno sconto di pena che forse ti porta più vicino al rubare frutta al supermercato che a quanto pare è il benchmark no mi stiamo leggendo non so se andiamo sotto però siamo siamo lì rubare frutta e fare un hack più collaborazione più o meno sono diventano più comparabili ecco questo è per quanto riguarda in Italia la discussione sulla cyber security nuove regole multe salate così dice il core com in questo articolo in realtà si parlava anche di influencer ma io per questo vado a prendere un articolo del sole 24 ore che mi diverte mi ha divertito anche questo perché si parla di social media manager arriva il contratto nazionale di lavoro tra l'altro mi ha divertito perché adesso a quanto pare i social media manager avranno un contratto nazionale di lavoro non specifico per i social media manager ma inserito all'interno dei grafici editoriali e noi invece informatici non ce l'abbiamo noi non abbiamo perché pochi perché i social media manager sono figura critica per il paese gli informatici invece più o meno siamo sempre un gradino sopra fruttarò lo supermercato più o meno siamo lì allora vado a leggere da solo 24 ore in un momento complicato per chi lavora sui social è un momento complicatissimo per chi lavora sui social tra lotta alle fake news e nuove regole per l'influencer dopo le accuse di truffe a Chiara Ferragni immaginatevi questo esercito di social media manager devastati distrutti dalle ultime news su Chiara Ferragni e quindi bisogna come facciamo a rendergli migliore la vita creiamo un nuovo contratto nazionale del lavoro mi pare quindi social media manager suona come una buona notizia secondo solo i 24 ore il social media manager insieme ai copywriter sono stati inseriti nell'accordo del CCNL grafici editoriali va bene ha spiegato Giulia Guida che è segretaria nazionale SLCCGL dice ci siamo resi conto che le aziende avevano difficoltà a inserire i social media manager nelle loro organizzazioni proprio per la mancanza di regole sull'inquadramento vabbè vado avanti così il sindacato ha lavorato insieme con l'ANSMM che sarebbe l'associazione nazionale social media manager per capire prima di tutto cosa fanno i social media manager mi pare una premessa importante e come si svolge il loro lavoro abbiamo creato un organismo bilaterale permanente con le associazioni datoriali questo è il gergo dei sindacati che monitorerà la nascita delle nuove figure professionali e delle nuove competenze digitali per aggiornare costantemente il contratto e stare al passo con la digitalizzazione che corre velocissima e qui ci aggiungerei un signora mia mentre questa dichiarazione sembra sempre che vengono fatte al mercato quando c'è la signora con il carrettino della frutta eh signora mia la digitalizzazione corre velocissima guardi siamo nel 2024 e quasi oggi si può fare quasi tutto con internet pensi lei nel nostro nuovo codice etico deontologico che raccoglie i diritti e doveri dei social media manager ha spiegato il presidente dell'associazione nazionale Pirrone dice abbiamo inserito linee guida che riguardano il linguaggio inclusivo la verifica delle fonti il fact checking e il rifiuto totale per late speech il linguaggio offensivo tutte questioni che oggi sono diventate un'urgenza nazionale un'urgenza nazionale quello dei social media manager è una professione sempre più centrale nella vita dei cittadini imprese e istituzioni i social media manager sono gli unici davvero competenti sulle piattaforme allora vi do un paio di link come sempre in conclusione il primo è SXMO S-X-M-O Simple X-Mobile lo trovate su SXMO.org è un ambiente un ambiente grafico minimale per smartphone quindi per mobile che funziona sia su Linux quindi per esempio su post market OS su sui smartphone appunto ma con dice con qualche con qualche sistemazione funziona anche su Android e avete un un ambiente ecco desktop tra l'altro tiled minimale sui sui vostri smartphone con più una serie di tool una serie di di robe che vi consentono anche di utilizzarlo come usereste Linux insomma quindi se siete interessati a usare magari usate post market OS o magari Android lo vorreste un po' più personalizzare o proprio andare verso un sistema Linux ecco magari potreste provare SXMO SXMO potrebbe essere la scelta giusta per voi tra l'altro è insomma mi pare attivamente supportato sviluppato l'ultima release è di un paio di mesetti fa a più e quindi insomma è un tool carino che vi consiglio di esplorare e l'ultima cosa invece è un articolo che ho trovato su dev è che è un po' un po' strano un po' particolare si intitola interview can you stop for reach in javascript qui mi rivolgo solamente o quasi agli sviluppatori javascript e questo articolo fa appunto questa domanda se un intervistatore siete durante un colloquio di lavoro e se qualcuno vi chiedesse come fai a stoppare un loop fatto con un for each non for each la direttiva for each il metodo cioè andate su un array punto for each no il metodo for each come fate a stoppare questo loop da dentro il for each da dentro la callback del for each e devo ammettere che io non lo sapevo cioè io non avrei saputo rispondere secondo me non c'era non c'era modo di uscire da un for each anche per il modo in cui viene disegnato non c'è modo di uscirne perché sono callback eseguite vabbè non sto a a eh ad approfondire però non c'era modo secondo me e invece in questo articolo alla fine non ve lo spoilero ma il modo c'è solo che è un è un po' becero è un trucco è un trucco la risposta è un trucco la risposta non è una vera risposta secondo me non ve la spoilero andatevela a vedere si intitola interview can you stop for each in javascript secondo quest'articolo sì ma secondo me la risposta bara è un trucco comunque lo trovate su dev.to e quindi vi lascio naturalmente questo e il link precedente nella descrizione del podcastone e con questo link finisco qui grazie a tutti quelli che mi hanno seguito anche oggi noi naturalmente ci vediamo in una prossima puntata di questo podcastino di tech news ciao